Ci raccontano storie di sogni infranti, storie di desideri, progetti di emancipazione e che però si infrangono all'arrivo in Italia quando entrano nel circuito criminale della prostituzione. Sono tanti luoghi comuni anche da parte delle persone nei confronti di queste donne? Sono tanti luoghi comuni, sono tante le banalizzazioni e le semplificazioni. Per alleggerirsi la coscienza si dice che il mestiere più antico del mondo e che sempre c'è stato e sempre ci sarà. In realtà pensiamo che probabilmente sia la violenza il mestiere più antico del mondo. Quanto è difficile per queste donne uscire da questa tratta, da queste catene? È difficile, è difficile perché il circuito prostitutivo è veramente invischiante e le tiene costrette per molto tempo. Anche se spesso si illudono di stare per poco tempo e che succederà loro per poco tempo in realtà è molto difficile poi uscirne. Anche se col tempo e grazie anche per esempio alla conoscenza dei servizi come i nostri al contatto e all'aggancio dei servizi come i nostri riescono ad aprirsi e a poco a poco insomma riacquistare forze e a potersi progettare anche in una vita diversa. Spiegliamo più nel dettaglio il vostro servizio, in che cosa consiste? In particolare il mio servizio è quello di unità di strada, è il servizio proprio di base, quello che aggancia, incontra e conosce le donne che si prostituiscono sulle nostre strade. Sono donne per lo più straniere. Noi andiamo tutte le settimane da ormai 15 anni sulle strade milanesi e incontriamo queste donne due volte alla settimana, due notti a settimana. Il nostro è il primo servizio, quello di aggancio, di contatto. Noi poi facciamo da ponte, da filtro con altri servizi che per esempio le possono aiutare e che riguardano sia tutto l'aspetto di prevenzione e di tutela sanitaria che però non è solo puramente la riduzione del danno ma è proprio un cominciare a prendersi cura di sé e da qui poi in realtà l'aggancio anche ad altri servizi, anche ai nostri servizi Caritas che si occupano di accoglienza, uno sportello di segretariato sociale, l'aiuto legale e dove c'è la volontà e la possibilità anche la fuoriuscita dalla prostituzione e quindi l'attivazione di un percorso di protezione sociale, di integrazione, di vera integrazione.